corin beffa probabilmente il termine giusto da usare per una partita che avete dominato ma che incredibilmente avete perso cosa è successo purtroppo è successo che sottoporta non siamo state per niente ciniche quindi quando tu non sei cinico sottoporta dopo gol mangiato gol mangiato col subito giusto ti chiedo anche che cosa è successo nella ripresa sembra come se gli avversari vi avessero preso le misure perché è vero che avete avuto tante occasioni probabilmente olson migliori in campo dell'intera partita ma nel primo tempo avete trovato tante soluzioni nella ripresa vi hanno contenuto anche nella pressione al primo tempo dovevamo chiudere la partita con due tre gol di vantaggio non è stato così poi nella ripresa purtroppo è stata un'azione che era un calcio d'angolo a favore nostro l'arbitro non ha dato il calcio d'angolo nostro ha dato pala a loro hanno rilanciato subito e si è trovata davanti a porta ecco ha fatto gol tre pari no bugia due pari purtroppo gli errori si pagano e dobbiamo solo che imparare di questo continuare a lavorare di sicuro non non buttarci giù e succede capita meglio che succeda adesso e piuttosto che più avanti probabilmente tutti credevano che fosse una partita tirata invece si è dimostrato già faccio i complimenti al sassari perché venuto a giocare qua tu a tu e complimenti perché hanno portato a casa i tre punti l'avevi quasi presagito perché nel pregare avevi augustato le antenne alle tue compagne partita probabilmente più complicata adesso ti chiedo come si riparte perché domenica prossima arriva il granzette e bisogna reagire sì avevo già pronunciato che sicuramente non era una partita per niente facile così stato si ricomincia da da lunedì ci mettiamo subito al lavoro e allenarci al massimo e a recuperare tutte le ragazze cercare di stare tutto al cento per cento ripeto può succedere dispiace perché ho l'amaro in bocca ancora dispiace però ci rifaremo e questa settimana lavoreremo sodo e cercheremo di prenderci tre punti casa contro il granzette mister in questo sport bisogna fare gol e questo non è accaduto al biceglie sono arrivate due direti però all'avversario è stato più cinico io la racchiudo in queste parole questa partita perché l'avete dominata ti chiedo una tua valutazione invece hai detto le cose giuste abbiamo fatto sempre nella partita e abbiamo pagato qualche errore dietro dove abbiamo preso i due gol purtroppo sono partite che quando si mettono una certa maniera vanno vanno via così peccato perché abbiamo avuto tante occasioni secondo me il primo tempo lo potevamo chiudere con un largo vantaggio e poi classico del couch a 5 no le partite si capovolgono la portiera del del cal del sassari ha fatto delle grandi parate purtroppo è andata così probabilmente non ti saranno andati giù i primi due gol perché nati da situazioni non proprio da azioni definite delle avversari addirittura il secondo gol da un lancio marquez si è ritrovata tu per tu con o selame si riparte da queste correzioni immagino si sono cose che possono succedere il primo gol c'è stato diciamo un fallo sul secondo ci siamo fermate perché pensavamo che era un calcio d'angolo per noi quindi siamo stati eravamo un pochino impreparate però sono cose che succedono il problema non è lì che può capitare dobbiamo concretizzare le tante occasioni che abbiamo creato però noi dobbiamo continuare a giocare in questa maniera a lavorare non dobbiamo non ci dobbiamo demoralizzare perché la squadra gioca gioco arriva davanti alla porta sempre dobbiamo solo migliorare in fase di realizzativa dobbiamo solo migliorare in fase di realizzazione